Si pedala da soli, si pedala in gruppo, una gara, un'uscita in solitaria o alla domenica con gli amici. Gioia, fatica, tenacia, delusione, entusiasmo. La bici può essere una professione o una semplice passione. Può essere un inizio e una seconda vita. Tante bici, tante storie. La gente di bici è diversa, un mondo da raccontare e da scoprire. D'altra parte, come ha detto qualcuno, il ciclismo non è uno sport, è uno stile di vita e il ciclismo è senza tempo. Tu che ciclista sei? Scoprilo ascoltando Gente di Bici, il podcast.